Musica Abbiamo con noi Rodney Strasser, allora prima di tutto l'emozione del gol? No, sono contento per il gol, però non sono contento perché abbiamo perso ancora tutto quello Ti aspettavi che questa reazione della Juve Sabia nel secondo tempo? La Europa Cassani Romani aveva tenuto fino al 25esimo della ripresa, poi nel finale qualcosa per voi non è andato mentre la Juve Sabia ha trovato due gol? No, non è andato bene perché anche per fortuna però io sono contento per l'acceggiamento della squadra perché non abbiamo un altro bene niente fino alla fine Speriamo che continuino così perché lavoriamo sempre per fare questo importante acceggiamento, poi il risultato viene, come deve venire Ecco dopo l'esperienza a Milano adesso la Europa Cassani Romani, chi ti ha convinto a venire qui e a spotare questo progetto? No, è un conflitto, ho parlato con, prima mi ha portato a Melia, poi perché due anni ero un po' fortunato però ho fatto due o tre fortuni E però sono contento adesso perché sta andando bene, ho venuto qua per giocare e prendere la forma Ecco guardando un po' le partite della Europa Cassani Romani e guardando la classifica, se uno guarda le partite sa che effettivamente questa Europa Cassani Romani non merita questa classifica Però purtroppo è un dato di fatto che si è vinto solo contro la Paganese, oggi stavate sferendo il colpaccio, poi i minuti finali vi hanno condannato Sì per quello, ormai io non guardo più la classifica, adesso cerchiamo di fare un punto e poi andiamo avanti, però non meritiamo questo posto Nel finale avete sentito un po' di stanchezza, forse anche avevate diverse assenze, dopo un ottimo primo tempo? Secondo me non avevo sentito la stanchezza, avevamo abbassato un po' per quello, però per fortuna come ho detto, quando viene il gol non si può fare niente